Il Tribunale per i minori di Torino ha condannato con pene da nove anni e mezzo a sei anni e otto mesi tre giovani accusati di tentato omicidio per avere lanciato lo scorso gennaio una bici elettrica da una balaustra di lungo Poca Dorna colpendo lo studente palermitano Mauro Glorioso, ancora oggi ricoverato per le gravi conseguenze di quel folle gesto. Due arresti per spaccio di hashish e cocaina a Barcellona Pozzo di Gotto nel Messinese. La polizia aveva cominciato a indagare sui due dopo aver sequestrato ad un altro soggetto quattro chili di hashish. Ai due indagati sono contestati 500 episodi di spaccio in appena due mesi. I carabinieri a Siracusa hanno segnalato all'autorità giudiziaria 85 persone per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei figli minori. Genitori o esercenti la potestà genitoriale non hanno garantito la formazione scolastica. Ad Agrigento, da lunedì i vigili urbani torneranno a controllare la irregolarità degli automobilisti con il servizio di street control, interessate Viale della Vittoria, Piazza Vittorio Emanuele, Via Emera, Via Cicerone, Via San Vito, le strade limitrofe.